Con 16 milioni di euro la Regione Toscana ha deciso di finanziare 132 contratti aggiuntivi nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia nelle tre università di Firenze, Siena e Pisa. I posti in più, annunciati nella sede della Presidenza regionale a Firenze, si aggiungono a quelli attribuiti ogni anno dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a ciascuna scuola di specializzazione, passati quest'anno da 486 a 672. Ora però, ha detto il Presidente Rossi, più che la revisione del numero chiuso per accedere all'università serve una programmazione nazionale di lungo respiro sugli sbocchi dopo la laurea. C'è una carenza colpevole non solo di quest'ultimo governo ma anche dei governi precedenti relativa alla mancata formazione di medici specializzati. Ci sono 11 mila camici grigi, 11 mila ragazzi già laureati che non hanno la possibilità di formarsi e mancano nei nostri ospedali i medici specialisti. L'obiettivo di lungo termine della Toscana è di finanziare posti per le specializzazioni mediche in cui si prevedono carenze o necessità di rinforzi nei prossimi anni, anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia d'urgenza, pediatria, radiodiagnostica, ostetrice e ginecologia, medicina interna e chirurgia generale e punta a far rimanere nuovi medici in Toscana. Abbiamo messo due vincoli per queste 132 borse che finanzia il sistema sanitario della regione Toscana. I due vincoli sono che coloro che a queste borse concorrono siano iscritti a uno degli ordini professionali della regione Toscana e che ci sia un impegno che poi sarà naturalmente trasfuso nei contratti di assunzione di restare per 5 anni almeno a lavorare nel sistema sanitario della regione Toscana. La Toscana è la regione che ha approvato il maggior numero di contratti di specializzazione, più di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e punta a creare una rete sempre più stretta tra sistema sanitario e università. In questo modo si promuovono anche delle importanti reti formative che aiutano poi ad ampliare il numero dei potenziali borsisti che possono essere specializzati nella nostra regione. Grazie. 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 Grazie.